Ma dove sta? Stava qui. Oi, che cerchi? Ah, il piano di protezione civile del nostro comune. Che? È il piano messo a punto dal nostro sindaco che descrive i rischi e i pericoli nel nostro comune, nella nostra zona e ci dice come avere informazione prima, durante o dopo un'emergenza, quali sono i comportamenti da seguire, dove andare. Certo che se c'è un'emergenza e ciascuno va dove vuole, sai che delirio? Ma fammi capire meglio, ma a che serve sto piano? A sapere come mi ha aperto uno se sono in giro, per esempio. Tanto per cambiare. E dove devo andare dopo una scossa sismica o se c'è un allertamento di quelle serie, quali sono le zone sicure, se ce ne sono qui da noi, tu le conosci? Proprio no. Mi fai preoccupare, però hai ragione. Dovremmo proprio saperlo. E allora aiutami, deve essere per forza qui sul sito del comune. Sai che ti dico? Dovremmo suggerire al sindaco di farlo conoscere a tutti. Sai che hai proprio ragione stavolta? Vai! Dai, scriviamogli!